Ciao ragazzi, oggi parliamo di come migliorare la scelta di tempo Un nostro amico su Instagram mi ha chiesto come poter migliorare la scelta di tempo Questa è una caratteristica importantissima Un pugile che non ha scelta di tempo può anche essere velocissimo Però poi soccombe davanti a un pugile che invece ha una buona scelta di tempo Io divido questa caratteristica importantissima in 5 punti Per avere un'ottima scelta di tempo devi avere un ottimo equilibrio dinamico L'equilibrio dinamico differisce in parte ovviamente dall'equilibrio statico Io adesso sto in punta, cioè sto su un piede soltanto Ho un buon equilibrio statico Ma l'equilibrio dinamico è quello che ci consente di muoverci In avanti, indietro, lateralmente Portando i colpi magari Senza perdere appunto il nostro assetto Senza sbilanciarci Mantenendo sempre l'equilibrio sotto controllo Per migliorare questo aspetto Ci sono degli esercizi che ti posso consigliare Uno fra tutti è un esercizio che si fa anche in riscaldamento Dopo che hai fatto tutti i movimenti articolari Dopo che ti sei riscaldato un po' i muscoli Puoi fare i salti di 180 gradi E funziona così Uno e due Ti metti in guardia e vai anche nell'altro lato Uno, due Ok? Così Questo esercizio oltre a migliorare il tuo equilibrio dinamico Migliora anche un po' la spinta dei piedi Questo è un lavoro in pliometria a tutti gli effetti Perché tu vedi Appena atterri Tocchi appena il terreno e già ti dai lo slancio per muoverti ancora Questo esercizio lo puoi fare per un minuto in questa modalità Poi riposi facendo il vuoto Poi cambi guardia Lo fai ancora un minuto Sempre 180 gradi Poi riposi ancora un po' Sempre un minuto Magari un minuto riposo Un minuto lavoro E poi puoi farlo anche con salti da 360 gradi Quindi stai così E fai un salto su te stesso Girando così Atterri in guardia Quindi in queste fasi Capirei bene Che dopo un po' inizi a girarti la testa È tutto normale Anzi in quel momento tu stai migliorando il tuo equilibrio Passiamo al secondo punto Importantissimo anche questo Per avere un buon tempismo È la reattività nei nostri piedi Negli appoggi Perché se noi non abbiamo reattività Se noi siamo ad esempio arenati sui talloni Ecco in questa modalità qua Possiamo anche intuire Possiamo anche capire Quello che sta accadendo Avere delle buone idee Però magari non riusciamo a cogliere il tempo Non riusciamo a realizzare la nostra idea Nella realtà Quindi bisogna avere una buona reattività Per avere una buona reattività Ci sono diversi modi Un esercizio molto buono Per allenare la reattività Degli appoggi È fare la corda La famosissima corda Che adesso ultimamente Viene tanto disprezzata Dai scemi Che stanno su TikTok Su Instagram Da vari personaggi buffi A noi non interessa La corda è molto buona Anche perché Ci sono delle variazioni Che puoi fare con la corda Che sono anche molto stimolanti Che non ti fanno annoiare Ossia Puoi fare non solo la corda classica Ma puoi anche fare il double under Quindi Fai Un salto un po' più alto Spingendo solo con la punta di piedi Facendo due giri Ma poi puoi anche fare La corda Mentre allarghi E chiudi i piedi così Anche mentre fai avanti e indietro Con i piedi Insomma Queste varianti Sono tutte ottime Per migliorare la tua spinta Andiamo al terzo punto Per migliorare il tempismo Tu devi anche essere conscio Devi essere consapevole Padrone assoluto Della distanza La distanza La scelta della distanza È fondamentale Per avere un buon tempismo E quindi Se io Sto troppo lontano Se io schivo E magari vado Un chilometro indietro Il tempismo Me lo sono Non ho giocato Quindi per avere una buona distanza Devi anzitutto Conoscere bene Il tuo allungo La tua gittata Da dove posso portare il colpo E arrivare a segno Quella è la distanza Dalla quale tu puoi portare i colpi Poi c'è anche una distanza Che tu devi considerare Un po' più lunga Perché non solo puoi portare colpi Da qui Ok? Dalla lunghezza del tuo braccio Alla massima estensione Anche della rotazione Del bacino Ma tu puoi fare anche Un piccolo Passetto Velocissimo Da qui Bam! Ecco Quindi devi conoscere La tua distanza Alla perfezione Sia da fermo Sia da un po' più lontano E poi devi essere Subito Bravo A capire anche La distanza Del tuo avversario Perché Se tu Non sai Che Da una certa distanza Devi stare attento Ecco Tu in quel momento Ti perdi Nelle distanze E quindi non potrai mai essere Reattivo Non potrai mai Scegliere bene il tempo Quindi Punto numero tre Saper Scegliere bene la distanza Quarto punto La velocità Dei tuoi colpi È fondamentale Magari Hai scelto bene la distanza Sei reattivo sui piedi Magari hai un buon equilibrio Quindi non ti sei sbilanciato Quando sei uscito Però magari C'hai il colpo Che è lentissimo In quel momento Rischi di non arrivare Avversario Quindi Non solo devi essere Veloce con i colpi Devi essere reattivo Devi lavorare bene Sulla velocità Per questo punto Anche ci sono Molti esercizi Che puoi fare Sviluppando prima La forza massima Andando poi A trasformare La forza massima In forza esplosiva Insomma Ci sono Una serie di cose Che puoi fare Che non possiamo Riassumere troppo Qui in questo video Però ti basti sapere Che devi lavorare Anche sulla tua Velocità di esecuzione E non solo La velocità di esecuzione Ma anche Devi lavorare Sulla postura Quindi questo punto Il numero 4 Comprende sia la velocità Di esecuzione Dei colpi Ma anche La postura Perché Tu magari Sei molto veloce Da qua Però se capita Che hai la mano Bassa Non riesci a portare i colpi Invece tu dovresti Essere in grado E quindi Anche qui Ti invito A fare del vuoto Magari O comunque Anche al sacco Lo puoi fare Ti invito A provare Diverse Combinazioni Ti invito A essere veloce In tutti I movimenti In tutte le distanze Da dove parte La mano parte Deve essere veloce Da arrivare al bersaglio Devi essere bravo A portare il colpo Veloce Sia da qua Che da qua Devi essere Sempre veloce La velocità È fondamentale Non puoi essere Un bradipo E quindi Per avere tempismo Devi anche essere bravo A non avere Difetti Del tipo Porto indietro il colpo E lo porto avanti Anche questo Fa parte Della velocità Di esecuzione Quindi non solo Muscolarmente Ma anche A livello di tecnica Perché la tecnica Ti fa Portare il colpo Da qui Subito in avanti Invece Se tu fai Questo movimento Telefona il colpo E quindi La tua velocità Muscolare Anche quella Se ne va Quinto E direi Per oggi Ultimo punto Poi Magari Se esce fuori Qualche altro punto Che mi segnali Anche nei commenti Ne parliamo Sicuramente Devi avere Le idee chiare Sul tipo di combinazione Che vuoi fare Perché la scelta di tempo Non è una cosa Che sta lì In maniera astratta Per avere una buona scelta di tempo Tu devi anche avere Delle combo Devi avere degli automatismi Che partono Che partono E che tu poi Hai affinato Devi aver limato Le cose Che sono Superflue Capito Le cose grossolane Le devi far diventare Molto raffinate Quindi la tua tecnica Deve essere Affilata Tanto quanto La tua voglia Di arrivare a bersaglio E allora Le combo Per prendere il tempo Sono tantissime Sono quasi infinite E allora Io ti consiglio Di andare anzitutto Sulle cose semplici Queste erano soltanto Alcune idee Riguardanti Un argomento Molto vasto Molto complesso Però Comunque Se già lavori Su questi cinque punti Vedrai Che la tua scelta di tempo Farà Da così A così Poi Se vuoi sviluppare Più in particolare Qualche argomento Di quelli che abbiamo visto O magari qualcosa Che pensi Mi sia sfuggito Scrivimelo nei commenti Io sono molto felice Di leggerti E come sempre Ci vediamo Al prossimo video